Salve a tutti, sono Sebastien Alnò, sono un attore diplomato presso l'Accademia del Teatro Stabile del Veneto di Venezia. Vengo da Milano ma vivo a Roma da circa 5 anni. Come potete ben intuire dal mio nome straniero, sono di madrelingua francese e oltre a questo ho una buona conoscenza dell'inglese, un livello intermezzo. Non ancora madrelingua, ma sto lavorando per questo. I miei dialetti invece sono il milanese, dalla mia provenienza, e dalla provenienza accademica, il veneziano e il veneto. Le mie special skills sono la kickboxing, che è uno sport che pratico settimanalmente, la scherma teatrale, il combattimento scenico e il teatro da danza. Vi faccio vedere i miei profili. E le mie mani. Bene, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.